Sei mesi fa il Santo Sepolcro è stato chiuso per un giorno perché i francescani hanno deviato, hanno sconfinato, così si dice, nella Via Cruce e si sono ammazzati di botti. I gracci ortodossi non l'hanno tollerato e li hanno menato e quindi c'è stata una rissa e hanno dovuto chiudere il Santo Sepolcro. Sì, così voi ce li vedete però, purtroppo. Adesso, quali sono le chiese che hanno diritto? Prima di tutto, la chiesa più importante come presenza all'interno del Santo Sepolcro è la chiesa greco-ortodossa. La chiesa greco-ortodossa perché? Perché la chiesa ortodossa è quella che è rimasta qui. I latini si sono spostati a Roma, c'è stato quindi un abbandono, ma poi lo scisma tra la chiesa orientale e la chiesa latina ha fatto più importante qui come presenza la chiesa ortodossa. Per cui il luogo della crocifissione e il luogo della sepoltura sono gestiti dai greci ortodossi. Che significa gestiti? Significa che davanti a questi due posti ci sono due predi greci ortodossi che stanno lì. Si danno il cambio, naturalmente, ma ci sono sempre loro, sono i custodi. Come seconda chiesa per importanza c'è la chiesa armena cattolica, la quale gestisce delle aree all'interno del Santo Sepolcro ed è la seconda chiesa per importanza. La terza chiesa per importanza è la chiesa copta, la copta viene dall'Egitto, la quale chiesa copta ha un pezzetto dell'intera area del Santo Sepolcro, cioè il retro del Santo Sepolcro è copto, col prete copto che naturalmente gestisce. La quarta chiesa per importanza, che non gestisce ma è presente, è la chiesa latina. Chi sono i latini? Sono tutte le chiese riconosciute che si riconoscono nel Vaticano e in questo caso la gestione è francescana, cioè la custodia di Terra Santa è gestita dai francescani che hanno un diritto molto antico di presenza qua in Terra Santa. La quinta chiesa è una chiesa monosettimanale, cioè tutte le domeniche. Questi arrivano, hanno una cappella dove stanno, mettono gli arredi, gli oli, fanno la messa, poi ripiegano tutto e se ne vanno. E sono i sediaco giacobiti. Poi ci sono, sopra il tetto del Santo Sepolcro, ci sono gli etiopi, i quali etiopi sono poveri perché sono poveri anche politicamente, sono poveri e quindi stanno sopra il tetto del Santo Sepolcro. La settima presenza è una presenza non cristiana, sono due famiglie musulmane che dal 1187, adesso ne vedrete forse uno, che dal 1187 gestiscono la porta e la chiave del Santo Sepolcro, cioè il Santo Sepolcro è aperto e chiuso con una tassa fino a 100 anni fa che veniva pagata a queste due famiglie da tutti i cristiani, quindi immaginate anche un certo potere che si esercita su questo. Il Santo Sepolcro è aperto e chiuso e la porta è gestita da due famiglie musulmane fino ad oggi. Questa è la storia. Naturalmente è una storia che io vi ho raccontato in modo molto pacato, molto semplice, però non è stato così, di lotte ce ne sono state molte, anche di uccisioni, anche di sangue ne è scorso tantissimo qua. fino a che nel 1852, ricordatevi bene questa data, i turchi che in quel momento gestivano, amministravano, dominavano la regione, decisero di fare una legge che si chiama la legge dello status quo, scritta una legge proprio. Questa legge che cosa dice? Dice tutte le chiese che non hanno diritto di stare dentro al Santo Sepolcro, fuori. Tutte le chiese che hanno diritto di stare dentro al Santo Sepolcro, quelle che vi ho citato io ora, nelle aree come vi ho citato hanno diritto di stare. Naturalmente sono assolutamente indipendenti nelle loro aree, un condominio cosa ha? Ha le aree comuni anche. Nelle aree comuni se non sono tutti d'accordo all'unanimità, quindi non c'è la maggioranza relativa ma la maggioranza assoluta, non si può cambiare nulla dello stato delle cose. Poi tra l'altro la legge dello status quo decide anche le processioni interne delle ultime cinque stazioni che si trovano all'interno della chiesa, tutte concentrate dentro, quattro sul Golgotha e una sotto, stabilisce le ore di preghiera, quindi ciascuna delle chiese sa quando deve fare la sua messa e stabilisce anche nelle grandi celebrazioni della Pasqua, che è qua a Gerusalemme, quali sono le chiese che hanno diritto di fare la messa prima e dopo. Quando i calendari però sono concordanti, perché il calendario giuliano e il calendario gregoriano non sempre sono concordanti, capitano concordanti e vi variano ogni sette anni, non so quando, quest'anno sarà concordante, sai il casino che sarà? E in quel caso rientra la legge dello status quo che stabilisce naturalmente gli orari delle messe. Ora, quando è stata creata quella legge, lo stato delle cose non poteva essere più cambiato, accettata naturalmente da tutte le parti, lo stato delle cose non poteva più essere cambiato. In quel momento si stava facendo un lavoro di restauro sopra quella balconata, vedete c'è una scala, quella scala da quel momento in poi non è stata più possibile toglierla, perché non si deve più cambiare lo stato delle cose. E quella scala è rimasta il simbolo della legge dello status quo. 52, sì. Tutte le stampe, tutte le fotografie che voi vedete del santo sepolcro esterno, naturalmente la facciata, c'è la scala. E questa scala è diventata proprio ormai un simbolo. No, a volte si deve perfino restaurare, perché sai, gli agenti esterni la rovinano. Per cui rimane lì, proprio per questo motivo. Usano per entrare dentro la chiesa. Ora, noi entreremo dentro la chiesa, faremo, tenteremo di fare... No, 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 no. Gli armelli sono coloro che gestiscono quest'area, che ricorda il fatto che le tre marie, cioè la madre, la Maria Magdalena e la sorella di Marta, stavano a ridosso della concepizione, ma non vicino vicino, ed è questa appunto la gestione armena dell'area del santo di Porto. Guardate l'edicola, l'edicola è tre quarti greca ortodossa e un quarto corta. Grazie.